Siamo con Davide Ottaviani, un giocatore dell'Arcadio 92, innanzitutto questa prima parte di campionato, come ti è sembrato? Un bel torneo come ogni anno, che noi lo facciamo sempre, sono contento, mi piacerebbe un po' più di partecipazione da parte della mia squadra perché siamo sempre contati, 7, 8, però tutto sommato ci divertiamo e l'importante è non farsi male, perché tutti noi lavoriamo il giorno dopo quindi è uno sport per divertirsi e basta. I punti che avete in classifica ti soddisfano oppure potevate raccimolare ancora qualcosa in più? Diciamo che ritornando al discorso di prima, se fossimo stati qualche d'uno in più con qualche cambio in più sicuramente le partite avremmo giocate un po' meglio e avremo qualche punto di più, però tutto sommato ci accontentiamo di giocare. Il campionato è ancora lungo, c'è ancora tutta la seconda parte, che cosa ti aspetti? Spero di risalire perché secondo me un po' la posizione ci penalizza, però sono tutti ragazzi bravi e quindi sarà sempre difficile giocare. Il torneo come ti sembra organizzato, comunque l'associazione Calcio Liguria? Mi sembra organizzato abbastanza bene, quindi poi è tutto Riccardo, il nostro direttore sportivo, presidente, allenatore, giocatore, il giocatore fa tutto lui, quindi diciamo che va tutto bene.